prenditi un attimo di pausa Bar Gaudì in via San Giovanni Bosco a Soverato il bar che soddisfa tutti i tuoi gusti crema al caffè o al pistacchio cornetti, caffè, aperitivi, gelateria, vari gusti Bar Gaudì, la tua scelta a ogni ora del giorno Bar Gaudì in via San Giovanni Bosco a Soverato On the windowpane